Me lo chiedevano già da tempo e elegantemente rifiutavo perché aspettavo, però quando ho visto i vari candidati che sono arrivati, tutti bravissimi, validissimi, però non ho trovato un programma, una proposta che secondo me era quella necessaria adesso. Nessuno parla di finanziamenti europei, nessuno parla delle criticità che i bandi europei hanno avuto nella nostra regione, che sono strategici anche per la ripresa delle imprese, di un territorio, delle amministrazioni, nessuno ne parla, però sono delle criticità serie, soprattutto adesso che arriveranno dieci volte tanto e nel mio immaginario noi dobbiamo organizzarci in modo tale da essere come con gli ombrelli del carnevale, girati al contrario per raccogliere veramente tutto e far crescere quello che è un territorio. Per farlo ci vuole un programma, una visione di un certo tipo. Io so che sono, come si suol dire, l'ultima arrivata, sono piccola, però ho già dimostrato che quando mi metto in alcuni progetti poi vado fino in fondo e ho la testa molto dura, quindi spero che le persone vorranno darmi fiducia.